ciao a tutti oggi vi voglio fare vedere come fare un cubo con un rompicapo seppente allora vediamo subito che da questa parte non si può fare perché c'è questo pezzo che ci permette di fare non ci permette invece qua non c'è il pezzo quindi si può fare da questa parte e quindi fate un altro poi prendete qua fate un altro o quel pezzo possibilmente qua in giù indietro poi fate un altro vado a fare uno zig zag poi la pistola fate una pistola vedete la pistola poi fate così e questa volta poi questo lo mettete così e la pistola la trasformate in un muro così così io vi consiglio di mettere questo pezzo di qua poi qua dovete mettercelo dentro tranne questo pezzo qua che deve rimanere qui e se vi succede questo che alcune volte invece vi arriva qua così lo mettete a giocare fate così poi fate così ed ecco fatto voilà ciao a tutti